e sicuramente non ha inciso perché io penso che basta leggere la lista e credo che tranne Poli che è arrivato quest'anno al palcoscenico della Serie A se mi mettete insieme i trofei degli altri dieci che hanno vinto penso che difficilmente in quattro giorni qualcuno possa incidere quindi secondo me difficilmente qualcuno in quattro giorni può incidere in generale su campioni di questo tipo la risposta è assolutamente no ma te l'avrei detto anche se avessimo pareggiato o perso io ho messo in campo da martedì pomeriggio